A Metropolitana gli puzzavano le ascelle e le persone si scansavano, poi è cascato dal cantiere nero e adesso in Metropolitana ha lasciato un posto vuoto che non puzza più. Beato Slatan! Proclamo Beata Aisha, che scappava da una guerra, aveva attraversato il deserto e veniva su un barcone a rubare lavoro a qualche italiana. Poi il barcone è affondato e Aisha adesso non ruberà lavoro più a nessuno. Santa! Santa Beata Aisha! Proclamo Martiri, con questo Sangiovese, tutti i bambini che hanno avuto addosso le manazze e sozze degli preti e quando l'hanno detto l'hanno fatti passare pure per Martiri. Martiri! Santissimi Martiri! E infine, proclamo Santi, super Santi, tutti i giovani di questo paese che gli rubano il lavoro, la dignità, il futuro e vanno avanti senza mettere bombe per strada. Santi! Si! Si! Mi! Mi! Si! Mi! In me! L'arga! No! Sā! solamente e se si casero tutte le donne che dall'amore fosse un incidente che all'alberino si asserà le fronte e a sentire pure Dio c'è sempre con te oh mamma come se va c'è vita da venire da morti e poi esuscita oh mamma come se va se Dio c'è vita da venire da morti e poi esuscita oh oh serenata la Chimosa oh 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 Grazie a tutti. Oh mamma, come se va, ci rivedono le linee da quanti, per poi resuscita. Oh mamma, come se va, ci rivedono le linee da quanti, per poi resuscita. Oh mamma, come se va, ci rivedono le linee da quanti, per poi resuscita.